Ternano Puro 1 Ternano Puro 1 Ternano Puro 1 Hai Pinnas che ti sto leggendo? Sì sì Sound of Music by Shirk Mappe Aspetta che io ho perso Oddio Morca trovie Che cazzo le giochi Ex Mortis 2 Ex Mortis 2 Oh oh Ok Piano piano adesso ho la schermata Nera però Perché veramente noi stiamo facendo i cazzi di quegli altri che sono morti Da notare il L'accento di terreno puro molto S S bene Che cosa sarebbe una chiesa? Oh no cazzo Dov'è il tuo dio ora? Oddio Entriamo Qualcuno ha scritto dove il tuo dio Sono entrato io No non mi farei entrare in queste cose Morca tra che sei entrato su lo sai Aspetta No 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 Aspetta Oddio del mare Che cazzo è Che cazzo è Che cazzo è Qualcuno qui a ciclo porca troia Vattene affanculo Ma dove cosa si cliccare? Oh si è aperta la porta porca Oh tu è tu è tu Adesso si è aperta la porta Adesso si è aperta la porta Oh oh che cazzo Oh Fottiti Ando un po' ovunque Anch'io Ehi Il confessionale Oh porca troia cazzo Ok 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 Per il per Un altro gioco che faremo I am afraid It has said it And I love it Ok Ex mortis No you are here So I must be brief Oh my team Lost you in this dark hour However I am here to bring you Ok Questo ci vuole dare una mano Ma mi pare Nightmare Freddy Krueger Ma guarda Si è pure io Assomiglio Guarda Quindi? Che tocca fare? Deffinare che finisci il pergare Vattene 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 Quanto è l'oloroico Si infatti sta chiacchiera su lui Mi devo confessare io Chiacchiera su lui Ha 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 Ma io mi sono fatto le pugnette padre Oh 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 Un po' Oh peffin Una sta chiacchiera su lui Così si fissa? Oddio Sono andato? Non c'è fisso? Niente Sono uscito Ci sono uscito anch'io Non vabbè L'altra porta Questa l'altra porta O Quindi posso avere anche uscita qui A meno che Non ci sia niente altro E quindi come si esce? Ma aspetta che quando andiamo The bloody foot Vabbè Oddio sto toccando questa cosa cos'è fisso? No, no. Ho aperto il confessionel dall'altra porta e non c'è lui. Non c'è lui. Oddio. L'ha lasciato qualcosa? Prophecy of the Hand. Ok, qui tutte le pagine non lo leggo mai, non lo leggerò mai. Torniamo indietro. E... chiudiamo? No. C'è l'ha, c'entro. Ok. Oddio. Dove stanno facendo? Dove sei uscito? Sinistra. Sinistra. Oddio, è vero. Ok, la macchina? Dice qualcosa? Niente. Prendi l'antenna. Presa. A che casa serve? E dove vado? Praticamente ne ho verso la casa. Ho troppo preso delle chiavi per terra. Dove? Qui sempre fino alla macchina. C'è il pavimento di legno. È vero. Bravo. Bravo. Ok, sì, sono dentro la brun brunca. Che ne siamo andati? Ma adesso schermata nera. Xavier's Legacy. Ma questo è leggero per le case, ho capito. Xavier Legacy. Oddio, che questa è brutta. Oh, se può bucare qua, Trento? Che scelchire. Questa è? Ok, la ola è quadro è caduto. Questa ci buccherebbe Trento, eh? Oddio, si è caduto. Oh, ma non è che è brutto qua. I bambini no. Oddio, aspetta, una combinazione? Cazzo. I bambini no. Che combinazione? Combinazione? Sono nel guarda l'uva. Ah, combinazione. Eh, nel guarda l'uva, vedi che è... Magari bisogna trovare quello che abbiamo portato. Dai, 4, 6, 1... Come mai? Sì, ma... Dovevo andare a trovare la combinazione? Ok, quindi vado indietro o meglio. Oh, porca! Ha visto di dentro quella porta? Vado, torno indietro. Oddio, qua dove si è realizzato? Oddio, porca! Una troia! Vado sulla porta io. Andiamo sulla porta a destra. Piccato, cazzo, un impiccato. Dove? Un impiccato. Dentro la porta? Ferma. No, io sono nel condizio... No, non sto andando... Oh, aspetta. Andiamo indietro. Oddio. Dimmi dove si è realizzato. Il living room, si chiama. Torna sulla porta a destra. Oh, porca miseria. Che schifezza. Che cazzo è qui? The set of shield... Oh. Sì, ma gli manca una cam... Anzi, le tambe... Manca due. Gli occhi. Oddio, gli hanno cavato tutto, cazzo. E quindi? Ah, aspetta, ma no. Come facciamo a aprire l'inventario? Ho trovato un sudoku. No, non ci credo. Come facciamo a aprire l'inventario? Ho trovato un sudoku. Dico, l'inventario? Come cazzo si apre? L'inventario rimane a destra, penso. Comunque, ho trovato un sudoku da risolvere. Non so dove dobbiamo risolvere. Mi senti? It's too dark to see anything. Cazzo, un sudoku. Un sudoku. Sì, sì. Priscianto, ma dove hai trovato il sudoku? Sul tavolo. Sul tavolo, giustamente. Ok. Eh, ma beh, sì, ma... E quindi? Per cui si hai trovato tu? 3, 4. Ah, ma... Se hai fatto il sudoku? Io? Praticamente, sulle linee, come vedi, ci sono 4 quadranti. Nei 4 quadranti ci devono andare dei numeri da 1 a 9. Poi, in ogni linea non si devono ripetere gli stessi numeri. E in ogni quadrante non si ripetono gli stessi numeri, ovviamente. Allora, so... Sì, ma ci mettiamo un'eternità adesso. Ma niente, mi fa soltanto questi 3, scusa, eh. Come quei di 3? Tocca risolvere solo quelli in grigio. Ah, quelli in grigio. Allora, perfetto. Te lo dico subito. Ok. Allora, sarà 1, 1, 1, allora, l'1 non è, il 3 non è, il 5 non è, il 2 non è, 7, 1, 2, 3, il 3 vediamo, si vanno, il 4, 2. Mica, ma vedi, tu sei alle 3 di notte dove stavo a mettermi il pallone. E quindi che cazzo? Eh, dobbiamo risolvere un po' il... Allora, 6, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 8, no, non posso risolvere, non si può assolutamente risolvere, perché poi... Allora... Madonna, non ci devo dare, no. 1, se lo risolvo io subito. Ti devi risolverlo tu, perché... È da un po' di tempo che non me li facci, su Luco. Allora, qui. Allora, l'8 andrà sopra, allora sopra andrà all'8, o a sinistro o a destra, però devo capire se va a sinistro o a destra, quindi abbiamo 50% di positiva. Poi l'altro numero che possiamo mettere è il 3, vediamo, 3 così, 3 così. Il 3 può andare o al centro o in alto a destra, di quello centrale sto dicendo. Poi abbiamo il 4, 4 così, 4, il 4 è più difficile, 5 sì, il sì può andare centrale in alto o in basso a sinistra, 7 l'8, l'8 abbiamo detto in alto, quindi l'8... Allora, tra il... allora il 3, vediamo, 3, 3... Il mio filo, non lo risolgo. Oh mamma santa... Perché sicuramente quelle tre cifre che noi cerchiamo sono quelle tre in grigio, capito? Sì, infatti. 1, 1, 1... Allora, metti l'1, vedi il quadrante che è sotto. 8, a me viene così, adesso non so se provarlo, aspettate, provalo te, perché... Oh, il 3 va centrale, l'ho trovato, 3 centrale... 8, 3, quindi il 3 va bene. Il 3 centrale, poi quindi, che altro manca, il 3 va centrale, quindi poi dobbiamo trovare... 8, 8 in alto a sinistra l'ho messo io, però probabilmente può essere anche diverso, eh. 8, 10, 10, 11, però... 3, 1, l'1 vediamo. O almeno io penso. L'1 infatti perché l'1 va qui, quindi l'1 va qua sotto, l'1 sotto è sicuro. Proviamo, cazzo. 8, 3, 1, ok, perfetto. Proviamo l'8, 3, 1. Vediamo, aspetta, che cazzo. Sì, nel guardaroba. Madonna. Madonna santa. 8, 3, 3, 1, sei andato. Vai, io non so capace a fare queste cose, però... Quindi, aspetta. È una cassetta degli attrezzi. Ok. Io guardo qualcosa che posso usare qui. Un catch... Un catch a vita, dici. Ok, oh. Si apre, si chiude. Tutto sto casino, non c'è niente, vabbè. È vero. Andiamo sopra. Sì, aspetta, aspetta che io... Io sto salendo. Possiamo fare un... Oh mio Dio, qual... No, 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 calma. Calma, 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 calma. Porta, 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 porta. Calma, calma, calma. Ma ecco sono tutte le porte. Calma. Aspetta, fammi... Sì, fammi respirare un attimino. Io sono antico. Oh, porca miseria, qui c'è stato l'esorcista. Porca troia, dai, non mi dico sì. Porta a destra. Ah, te le... No, l'esorcista no, l'esorcista no, l'esorcista no. È presente quando prende il crocifisso e fa? Chiamami, chiamami. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Brutto, un po' il pezzo è lì, brutto. Infatti non giocavo al must game, perché avevo paura che poi apparisse questo pezzo. Comodino, ho trovato la Bibbia. Aspetta, tu sei quella Bibbia? Non lo so, è un diario. Mi sono perso. Compli colmodino. Yes, yes, yes. Aspetta, aspetta. I'm afraid. È un diario, praticamente. No, questo tanto penso polle, almeno che nel diario non ci sia scritto sempre qualcosa. Eh, bro, è maggiunissimo. Il quadro, picture, 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 picture number seven. Ah, penso che non ci sia più niente, solo quello da prendere. Ok, 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 aspetta. Bene. Porta a sinistra? Sì, aspetta. Oh mamma santa. Io non tocco niente. Io non tocco niente. Porca miseria, sto cliccando. Sì, sì. Aspetta. C'è qualcosa di te, è un accendino. Aspetta. C'è un accendino aperto. È mio, fumo. Ok, no, non so che cosa potrebbe servire. Porca puttana. Aspetta. Ok, 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 qui. Ok. Non so più niente, è meglio non alzare le lenzuola. Io diri di andare. Aspetta, tu, per esempio, sono tornato nel... Oddio, sono tornato nel corridoio, eh. Ok, porta... Seconda porta a destra? Sei tu lì? Sei tu lì, il cazzo è bello. Il cesto? Sì, sì. Ok, qui. No, io no... Io penso che bisogna prendere qualcosa con me. Madonna. Sto ricricando tutte le porte. Io sto ricricando, di merda. Io ho cliccato nel bagno. Perché? Sto adesso... Non so. Ma che altro c'è alcune? Il diario l'abbiamo preso qua. Io sto dove abbiamo preso il diario, ho capito? Ah, perché? Perché sto cercando di vedere se c'è qualche altro oggetto, perché non riesco a capire ancora il senso. Allora, ci sono qui. Niente. Non c'è niente. La tenda l'hai tirata, è questo sul bagno. Andiamo in bagno, andiamo. Affetti. Sì, nel bagno? Affetti. Sì, sì, sono nel bagno, perché ho detto che sono nel bagno. Adesso cago, non faccio una bella cagata. Scherzo. Sì, ti lascio ancora. L'ho tirata, ma è tutto sangue, quello che conosceva il ciclo. Apri la doccia. No, no. La finestra? Non c'è niente. Non c'è niente. Ok. Niente. Ok. Sì, perché tanto. Quindi la sinistra? No, c'è la seconda sinistra. La seconda sinistra. La bambina. Il catroio. Ok, i giornali dati fai. L'hai giornata, gli eletti tutti i giornali che stanno in bacheca. No hope. American War. Yes, quello lì. Questo, per me. Stasen, svelta in città. Sì, ma tutti dove leggere? Ah, le chiavi, l'ho preso le chiavi adesso. No, lo vedo. Sì, l'ho vista la chiave. Non l'avevo presa. Ok. Ok. Dove andiamo adesso? Non so. Quanto c'entrae? Giusto. No, lì c'era l'enderman. Andiamo, andiamo. No, non posso sotticinarmi. Aspetta, forse ho preso la chiave. Esatto, bravo. No. Non fa niente. E quindi... Andiamo giù. E come facciamo al torno giù? Andiamo giù. Ah no, aspetta, c'è... Dockare. Sì, sì, sì. Hai visto? Sì, quella porta... Siamo sulla porta verde, sulla porta verde. Quella a destra? Sì. Ok, qui è troppo buio per vedere, vedi che c'è scritto. Lì dietro c'è qualcuno? Porta puttano. Oddio, no, no, no. Sì, ma possiamo fare l'accendino? No, non ce l'ho l'accendino, te l'ho detto prima. Lo devi prendere. Ah! Perché c'è la... Perché io fico su perché... Perché c'è il cazzo... Perché non mi dico... Dove c'è stava l'accendino? No, 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 sono morto, sono morto, sono morto, porca puttana. Dove sta? Voi sopra, era giù, porca bella, nella stanza delle tre bambine, nella stanza delle tre bambine, nella stanza, lo trovi l'accendino. Oh, cazzo, stai mi ha fatto che c'è sotto me adesso, porca puttana, troppo. No, 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 io aspetto a te, comunque, no? Aspetta, ma aspettate, ma aspettate, perché tanto io l'accendino... Dove so pure il cacciavite? No, il cacciavite dov'è? Io no, 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 non l'ho trovato. Non me vuoi di così, ragazzo, magari lo sfrotto io. Dove era l'accendino e sorriere a casa delle tre bambine sotto... Non me vuoi di così. Dove stanno quelle tre bimbe, giusto? Ma comunque, dove stanno quelle tre bimbe, giusto? Per terra. Perché non lo vedo io, porca puttana? Per terra. Ma dove... Mi hai preso? Eh, è stato tutto sporco di sangue, giusto? E ancora ce l'hai, ce l'hai già, l'accendino, in alto a destra. Non lo vedo, cazzo. Ah, sì, è vero. Ma sono un fottuto bastardo. Ok, allora, torna nel giù. E dentro non si vede niente. Entriamo nel condizionatore. E accendi la luce. Dio, oddio. Non è il condizionatore, non c'è la madonna. Dizurano, per favore. Dizurano. Oh, io non me l'assessavo, sono morto, eh. Dovevo fare in... Slu muro. Ho testato la tua anima e sta in Econ of Light. Ma vaffanculo. E poi perché tu mi hai avvertito? Ci s'avessi. Mi name is... Pay heavens to my world. Madonna mia. Sopure c'era addirittura una donna. Qui che c'è? Chi si può prendere qua dentro? Oddio. Il cacciavide ci serve, reddì, adesso. Ah, sì, dobbiamo... Io sono entrato a destra. Dove possiamo trovare... Comunque dovrebbe stare nella... Nella cassetta degli attrezzi. Scusa, che si può anche pro-amprire la cassetta. Eccolo, hai visto, hai visto, infatti, ora c'è. C'è dov'è lì? Nella cassetta. Nella cassetta degli attrezzi. Ok, sì, infatti, grande, grande, oro, grande. Dai. E adesso vai nel condizionatore. Madonna, che cacamento sotto. No, vabbè, dobbiamo aprire una vite per volto. Ok, io parto da sinistra, non ti sa mai. E poi recupero pure le viti. No, non si possono recuperare. Io sono quasi all'ultimo. Dimi quando ci si che la premissima. Ok, l'ultima, dai. Uno, due, tre. Cazzo. Oddio, ho cliccato in mezzo. Ok. Ok, uno in mezzo. L'ha visto? L'ha preso? Ok, perfetto. L'ha visto da te? Aspetta, ho cliccato un punto. Ho cliccato... No, sei uscito tu. Clica verso la porta con la finestra. Clicca lì. Si è eliminato? Sì. Oddio, oddio. No, no. Vabbè sì. Oh, ho preso un A3. Che cosa ho preso? Che hai preso? Oh. Oh. No, in basso, a destra. Vedi? C'è tipo una mazza. In basso. Vedo un cazzo. Ma stai nel... Sì, che sta con la... Ho preso la pistola io. E poi hai sentito di tipo... Dei metalli? Esatto. Ah, ok. Allora, non ero io. Ok, possiamo uscire fuori, forse? No, 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 no. Clicca sulla porta con la finestra. Ma la porta con la finestra? Quella che vedo come... Sì, quella lì in fronte. Allora qui. Eh, mi fai uscire fuori. Sei andato sulla sottoscala? Ok, sì, sono sottoscala. No, la cantina no. No, la cantina no? Allora, buttate vino. È vuota. La radio. Radio. Io non so sto cliccando. Urca troglia la radio. Ma vaffanculo. Tt. Cazzo. Ok, ho acceso canale 4. Canale 5. Come fai? Cioè, abbiamo questo. Power. Canale 4. Canale 6. Che cazzo. Andiamo a 1. 5, 6. Mi sono 6, sì, c'è sta un movimento. Guarda cazzo, un numero mago. Non riesco a capire. Andiamo a 7, 8, 9, 10. 10 anche. 6, 10. Bisogna segnare questi numeri. 6, 10. Non mi piace il 10. Io sto andando al canale del cazzo. 21, 22. Non succede più niente. Quindi, 6 e il 10. 6 e il 10. Ok, ricordiamoci. 6 e il 10. 6 e il 10. No. Basta, vaffanculo. Libri, niente. Clicco le scatole, niente. Oh, ho trovato un libro. Vai dove sta la pila di libri. Dentro le scatole, a sinistra. Sì, aspetta, aspetta. Lo troviamo subito. Eh, lo troviamo subito. Basta di dire, bisognerà leggere o no? No, che cos'è sto? L'ultimo, il cerchio della vita. Oddio. The circle of life, portal to the spirit realm. By an act of ultimate sacrifice. Weapon of fire. Allora, questo qui però bisogna analizzarlo bene. Capito? Sì, tanto lo possiamo riprendere, comunque, giusto? Oh, no. Per far andare sempre via a sinistra. Perfetto. Ok. Usciamo da qui? Dobbiamo uscire. Usciamo da qui. No, ma guarda, che brutta cosa. Di nuovo lì dentro dobbiamo andare. Usciamo da qui? Io sono da dentro di nuovo. Sei dentro la cantina? Ah no, dentro la casa. No, dentro, non dentro la cantina. Dove sta quello? Il tizio morto. Ah, sì, sì, ok, ok. Perfetto. Quindi dentro. Dentro casa. Sì, vabbè. Fatti. Ma non so come tornare adesso. Ah no, sì, 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 ritorno. Sono intorno al corridoio. Come hai fatto? Aspetta. Ah, ok, ora si apre. Praticamente, allora aspetta. Allora, entra là. Ci deve essere una sedia che devi spostare. No, sì, ok, ok, perfetto. In basso a destra c'è la porta. E' vero che cos' si torna indietro. Questa è la pistola che facciamo. Eh, infatti, secondo me, ci sarà una bella sorpresa. A breve. Dove andare sopra? Aspetta che qui però non riesco. Porca... Sto cercando di andarmene dall'uomo con... Allora, vai in passo a destra, vedi, si tra il... Ah, ok, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Dove andiamo? Adesso facciamo una bella cosa. Andiamo su. Esatto, un'altra volta. Mortacci. La porta. Adesso dovrebbe farci entrare con... No, non entra. Non ci fa entrare però, secondo me, qualche cosa bisogna fare. Anche nel bagno non abbiamo trovato un cazzo. Sì, infatti. Sì, io sparo nel bagno. Non abbiamo trovato un cazzo al bagno. Ok. Adesso siamo bloccati, cazzo. Dai, 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 dai. Ok, bisogna rivedere tutte le porte. Una troia. Eh? Le tre bambine di merda stanno qui. Questo è i giornali, ci possono vedere qualcosa. Oddio. Vediamo un po'. È che smorto sia, ma non è niente. E infatti, sono sui giornali. Unite la nazione per la forza e la forza. Che cazzo è che... Japan e la cina demolizione. Niente. No hope. No hope. No hope. No speranza. Poi sotto. Niente. Usciamo. E qui sopra? Eh, oppure io. Che cosa sta scritto? Most of the roofing of the major waves. Non è che possiamo sparare lì? No, niente. Secondo me, invece... Bisogna. Andiamo di nuovo lì. Ranch lobby. Oddio. Che c'è? Tu non... Ho preso un pugnale. Dove? Dove? Aspetta. Dove sta quella casa? Cioè, quella casa. Quella stanza. Dove abbiamo trovato... Eh, una camera da letto vuota. Dove sta ovviamente un corpo soltanto. Vai. Ah, qui. Dove l'hai trovato? Sotto c'è il mobiletto, il comodino a destra. Tu apri. È una specie di libro. Cazzo è stato... Oddio. Ok, quindi... Quindi ci abbiamo... Oddio. 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 No, no, no. Che c'è? Oddio. 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 C'è il tempo radio Sì, infatti E quindi Non mi voglio uccidere, non mi voglio uccidere, mi sono ucciso Ci stanno sparando No, questa secondo me non è la fine corretta Sacrifice No, svegliate, per me è dominio Dominion Che c'è? Che cazzo tocca fa' qui? Oddio, io sto collegando Anch'io E quindi? Oh Ah, bisogna per me? Aspetta Ok Ok Eh, devi, devi, io ce l'ho fatta Come hai fatto? Ce l'ho fatta, oddio, un'altra volta Vedi questo gioco che ti fa fare, che c'hanno tutti un cerchio Beh Devi fare in modo che tutti abbiano questo cerchio Come sembra un timone Capito? Ho capito Forse ci sono Questo non è il secondo schema E quindi qui E' difficile sto cazzo Vai ce l'ho fatta anche adesso Vai ce l'ho fatta anche adesso No, questo non è collegato Sì Ora sono il terzo schema E adesso sono cazzo amare The symbols mean what was, what is and what will be The last two red, Ancy and Domination I tried the tour Sto impazzendo ora Anch'io Oh no, 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 eh Che? Oddio, oddio, figlio della puttana, figlio della puttana Bastardo Non ci sono, sono ancora lì Come faccio? Oh Io sono ancora nei cerchi Aspetta, ti voglio aspettare, Dan, come faccio a aspettarti? Ecco, non ce l'ho fatto il video Ce l'hai fatta, attento, attento, attento Attento Ah no, c'è l'altro schema, aspetta, porca Sì, l'ho fatti tutti Sì, l'ho fatta qui della logica Oddio, no Mi prego Cazzo, no, no Non ce l'ho fatto, no Non devo spoilerare niente, silenzio Ok Non so come fare, stai conseguendo Clicca tutto Allora, dove sei adesso? Ah, il secondo schema Ok, devi praticamente Purtroppo devi fare in modo che tutti siano collegati tramite raggi e col cerchietto in mezzo Prima fai quelle più piccoline in basso A destra Mamma mia ragazzi Zitti Zitti, zitti Zitti, zitti Che questa è brutta, una brutta bestia ragazzi Porca miseria Che c'è? Che c'è? Con questi schemi No, 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 tranquillo Io, quel sudor, se non me lo dicevi te, era finita Quindi io pugnerai il mio pugnale Io ti aspetto qui nel fantastico corridoio Bellissimo corridoio Va bene? Quando tornerai in vita? Quando tornerai in vita? Ti aspetterò Tranquillo Che ti aspetterò, caro mio Orocio Che ti aspetterò qua nel corridoio Fantastico Non ci temi Ti aspetto Ti aspetto Non ti preoccupare ragazzi Madonna Madonna Dai 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 Ragazzi Preghiamo Dio mio No 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 Allora, c'ho tre cerchi Ecco C'ho Yes, man Dai, allora Adesso non c'è No, non c'è Bravo C'è questo cerchio Io non ho fatto altro Non so come ho fatto Ha cliccato in mezzo Dopo ho smanettato Ma porca puttana Quanto è che sei brutta Oh Mi sento il cuore Quindi adesso che facciamo? Dove è il corridoio? Oddio, bello La mia mano Infatti, bella brutta verde hai visto come brutta Mazzola Ok, sono nel corridoio Che facciamo? C'è una pistola Coltello Piave No Dritto Certo in fondo Non ho detto Io forse Stavamo Stavamo Sparami 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 Mamma mia Vado è brutto Piazza Non so se mi ha fatto fuori La puttana Ma Non è lì No, sono morto io Sono felici Non so se mi ha fatto fuori No Ok Rifacciamo 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 Lo sto rifacendo Si ma si Si sta avvicinando sempre di più questo Aspetta Aspetta che sono No Ne arrivano queste Madonna Ok Aspetta Sparami Questo figlio di puttana Minchio Perché non c'è questo figlio di puttana? No Che cazzo Perché non mi fa Dio buono Come hai sparato te? Dove hai sparato? Vedate Dai il mirino E' il cursore del mouse Con la pistola giusto? Si A meno in questo Nei FPS sono forse Ma Spara Porca puttana Troia Non mi spara Comunque segui Il pallino di luce Che c'ho sopra lui Dove la da lui Poi spavano Ma perché non mi spara Porca puttana Non mi spara Vedi che non mi spara Non mi spara proprio So' bugato Cazzo Ma ti riesce il cursore Che appuntino più Cioè La mano Si Però a me non capisco Perché non mi posso Spara sto figlio di puttana Porca troia ragazzi Mi dà la mano ma Porca troia Metti che non mi spara sto Porca troia Tu figlio di puttana No Oe sono bloccato ragazzi Si è morto Cioè Vai avanti Io cercherò di raggiungerti Il resto Che non mi spara Perché non mi spara sto Bastardo Ok Facciamo un po' così Pugnale Se no Vai avanti Mi sto avvicinando a loro No? Lo sto infelzando Porca L'ho inchiappettato Faccio così Se che faccio Zoom avanti No Avanti Ciao Minchia Ok Dai Ce l'hai fatta Forse Forse Dai Ma che è sta luce? Maledetta Oddio Lei è pugnalato Eh Lo fottuto Grazie Dai Cazzo Oh madonna Dai No 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 Ci sei? Noop Ma per niente Non capisco perché Adesso io ero andato avanti Giusto? Ma con tu Porca puttana delle pallotte Fuck me Ok Non capisco perché Io sono arrivato in Adesso Vai Si sta avvicinando il tizio lì Si Si Pugnale Si Quel pugnale Quello Segmentato Madonna Madonna Adesso sto Ok Mamma mia Attendiamo alternando Puro che ci raggiungi Si si Ti faccio Porca puttana Si avvicina sto figlio di una mignotta Oddio Si avvicina sempre in più Madonna Comunque Nel tunnel Nel Nel condizionatore Mi sono Caccotto sotto Ok C'ho il pugnale addosso Che sto avvicinando io alle spalle Si Vieni qui Bastarda Te lo metto in culo Cazzo Oh Scusate 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 Ok Però avevo bug perchè non mi sparava prima la pistola Cazzo Non ci sta Non ci sta per niente Non ci sta Cazzo Ok adesso vedo delle luci Si Ok sono una scena Vedo tutto Clicati in fondo Tanto non c'è niente davanti Eh ci troverai davanti un tunnel Yes Ok E tu sei qui Vai Applicare la mano Ok Io già vedo con le spalle Cosa Si Si Sta salendo No Ho finalmente trovato ex Ui Che è questo Ho finalmente trovato l'uscita ma una figura familiare mi blocca Io bruscamente E Eh Sì Eh Sì Io devo ammettere che quando ci siamo portati nella chiesa ero insicuro se tu fossi in grado di fare questo lavoro tuttavia Sì 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 Non è lì Non è lì mal piazzato Ok E E E E Sì 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 Infatti Su quel cazzo da capperio guardano un po' come parla Si muove solo tutto il naso che si muove quando parla Non è lì E E Sì 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 I Sì Sì E Sì l'uomo un pochettano scattata io lefre scuola ritorna 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 ss ma il creatore e ben il maledetto porto di città da bastardo pezzo di merda scuola per niente ragazzi abbiamo fatto 40 minuti di video il giro che è stato creato adobe adobe photoshop tu pensa eh adobe flashplay professional 8 adobe audition 1.5 image line studio con pochi programmi special thanks to orc special thanks graeme stambla fanculo finito tanto il termine questi titoli di coda ci sarà un bel maze vietoso vediamo va bene ragazzi abbiamo fatto siamo giunti al termine insieme a ternano puro non avevo mai giocato questo gioco mi ha consigliato ternano puro e davvero ci sono stati dei momenti in cui mi sono spaventato c'è un altro gioco che è in flash si chiama madonna m con la m inizia se volete altri video di questi nel prossimo video ci troveremo nel canale di ternano puro si esatto quello è un video proprio un gioco ancora più che lo posso assicurare va bene ragazzi ok possiamo salutarci io sono come sempre rocioc90 mi raccomando visitate il canale di ternano puro si troverete altri video molto simili ai miei nient'altro ci vediamo alla prossima ciao belli ciao da ternano puro e ora cioc90 ciao ciao belli ciao 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 ciao